Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAGLE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite Sicuramente tutti state già facendo o avete terminato la quarta settimana di sfide Vi ricordo molto semplicemente a moli molesti troverete la lettera T in mezzo alle due gru C'è comunque un video che ho già pubblicato ed è davvero semplicissimo anche attraversare con i motoscafi I cerchi di fuoco per andare avanti appunto nelle sfide e portarsi a casa una bella sbregata di punti esperienza Ma nel video di oggi parleremo porca miseria e tutto è al contrario Questo veramente non ho veramente o porca come è possibile che tutto è al contrario Ok! Assurdo! La prima volta che mi succede Del Darkfire Bundle ragazzi Totalmente decriptato il bundle che uscirà oramai fra pochissimo Il 5 novembre credo che alcuni GameStop ce l'abbiano già disponibile potete già prenderlo in preorder Ma vedremo anche un video incredibile una nuova meccanica di gioco che potrebbe essere introdotta Non si sa quando ovviamente in Fortnite e ovviamente una bella sbadilata di leaks Per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono in live su Twitch Dalle 8 alle 18 Grazie mille ragazzi per tenermi compagnia Grazie per passare qualche ora insieme Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai canali e soprattutto Attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video Uè! Codice Creator Xyuderone Prima però ragazzi la domandina ve la devo fare Mi rispondete sempre in tantissimi e grazie di cuore Domanda di oggi davvero molto e molto interessante Qual è la tua skin preferita del Fortnite Mers? Ce ne sono tantissime Ne hanno fatto uscire veramente una valanga Io mi tengo un po' qua Nel senso vorrei vedere la strega moderna Non è ancora uscita e oggi non esce perché esce la banana Dovrebbe essere già uscita ovviamente la banana Per il momento la mia preferita è Willow Quindi la prima che vedete a sinistra Ditemi qual è la vostra preferita qua sotto nei commenti Ma quindi Ciancia alle bande E bando alle ciance Andiamo subito subito ragazzi a parlare del Darkfire Bundle Momentaneamente l'unico bundle in arrivo Sappiamo che però ce ne sono altri 4 ancora criptati Quindi conosciamo semplicemente i nomi Disponibile per tutte le console Disponibile ovviamente anche per il PC Ma volevo appunto dirvi che finalmente è stato completamente decriptato Ecco qua tutte le skin Tutti i picconi e i backpack Che verranno dati ovviamente insieme alle tre coperture Per le armi e per i veicoli A chi acquisterà il bundle 30 euro Una bella manata Come vedete ci sono tre skin epiche Due backpack rari e uno epico Tre picconi doppi Anche qua uno epico E due rari e tre coperture Volevo un attimo farvi vedere ragazzi Piuttosto che far vedere la mia faccia A far vedere ragazzi il pack in game In poche parole Finalmente è appunto stato decriptato totalmente Se devo essere sincero La skin di volume 11 Quindi lei è la Dark Power Chord Secondo me è la migliore Veramente molto bella Carina anche la versione oscura Di Ark E sinceramente a me Omen Nella versione infuocata Non mi fa impazzire Particolarmente Molto bello invece Il doppio piccone Tutti e tre Devo essere sincero Sono veramente molto carini E come vi stavo anticipando Dovrebbe esserci anche un balletto Che fa parte di questo backpack Potrebbe essere Quello che Vi avevo fatto vedere Ieri Solo che è molto a tema Halloween Quindi Non ne sono certo Al 100% Però Anche molto molto Interessante Tutta la serie Di coperture Ci stanno veramente Tantissimo ragazzi Un bel pack Sicuramente Che può andare Nella vostra collezione E andiamo avanti A parlare del prossimo Argomento Si tratta Del trailer Una specie di Cortometraggio Uscito nel pomeriggio Di ieri Che va appunto A mostrare L'arrivo Del Pili's Bones Quindi La banana scheletrica Questo è il tweet Di Fortnite Pili rises Pili è risorto E ha preso Un osso Available tonight Quindi disponibile Oggi Prima di farvi vedere Il trailer Eccola qua La skin Ne avevamo già parlato Molto molto curiosa E ancora ragazzi Sparisco un secondo Per farvi vedere Il trailer Che è veramente Simpatico E Molto molto Divertente Come vedete ragazzi Il La nostra Pilis Bone Quindi la nostra Banana scheletrica Arriverà anche Con un emote Dedicata Si chiama Bone Music Roba del genere L'abbiamo visto ieri Quindi con le bacchette Della batteria Va a suonarsi A Xilo Bone Si chiama A modi xilofono Tutte le costone In modo da fare Appunto Ancora più divertente Il suo balletto E andiamo avanti Con il prossimo Argomento Si parla Di una curiosità Vi ricordate Questa copertura Che avevamo visto Nella patch 11.01 Se non ricordo male Beh è successo Qualcosa di strano Perché è stata Rimossa Direttamente Dai file di gioco La copertura Andava a riprendere Un pochettino Il logo Quello degli Illuminati Tra virgolette Backpack Anche della skin Epica Uscita qualche giorno fa Di Halloween E il Il leakers Dice proprio Questa copertura Che in realtà Non ha mai avuto Un nome Prima d'ora E' stata rimossa A partire Dall'update 11.10 Quindi Non sappiamo Se mai tornerà Sicuramente Potrebbe essere riproposta Addirittura La prossima season E prima di salutarvi Come vi anticipavo Voglio farvi vedere Un video Veramente Incredibile E veramente Interessantissimo Guardate E' un Nuovo Stile Di Di me Una nuova Meccanica Di gioco Voglio esserci Anche io Però Vederlo insieme A voi Quindi Guardate Un po' Che roba E' assurdo E' assurdo L'ultima L'ultima volta Sfondi Pam Sfondi Edito Pam Arrivederci È stato un piacere Ragazzi Veramente Veramente Pazzesco Non vi so dire Da dove arriva Questo Cortometraggio Questo video Ma è Probabilmente Quello Che succederà Nel futuro Del Dell'editing E del build Di fortnite Io vi ringrazio Tantissimo Ragazzi Per aver guardato Questo video Mi raccomando Un bel pollicione In su Iscrivetevi I canali Noi Ci vediamo In live Dalle 8 Su twitch Ciao Sfondi Grazie Grazie